Se ti stai ancora chiedendo dove passare le vacanze estive quest'anno, Kate e Ellen hanno una proposta per te. Di Peve nel secondo libro che ti consiglio per la box indipendente di Mattioli di questo mese, ed è un testo dove l'autrice, che viene sempre paragonata a Mark Twain proprio perché è bravissima a raccontare le piccole cittadine di provincia, racconta la vita di questa cittadina marittima in cui le due protagoniste vanno a villeggiare. Questo racconto sarà molto diverso da quello che ci si può aspettare da un'autrice classica, perché invece di soffermarsi sulla trama, sui personaggi, sulle relazioni tra i personaggi, si sofferma proprio sull'ambientazione e sulla vita e la popolazione di quel luogo. Quindi vengono raccontate tantissime storie, tantissimi racconti che sono legati alle vite dei personaggi che non sono quelli principali che seguiremo lungo tutta quanta la strada del racconto, ma proprio quelli che popolano la cittadina, che prenderà veramente vita sotto i tuoi occhi.